Con il termine audit energetico intendiamo un'analisi dettagliata dei consumi e delle potenzialità di risparmio legate all'uso dell'energia, finalizzata la produzione di un report ad uso del cliente finale che permetta di prendere coscienza dello stato attuale delle cose e delle potenzialità di risparmio per impostare politiche future di risparmio energetico. I passaggi per un audit energetico sono essenzialmente tre, innanzitutto l'acquisizione dei dati relativi all'oggetto di indagine, un'analisi e elaborazione dei dati acquisiti e una presentazione delle potenzialità di intervento innovative. La prima fase è quella dell'acquisizione dei dati relativi all'oggetto di indagine che può essere l'intera società oppure una sede o anche solo un reparto di una sede dell'impianto produttivo avviene normalmente attraverso la raccolta di documentazione cartacea o elettronica come layout di impianto, schede tecniche, bollette e poi anche attraverso un sopraluogo diretto che permette di prendere coscienza della realtà effettiva dei sistemi produttivi e del funzionamento degli impianti. In seguito i dati acquisiti vengono elaborati in maniera da evidenziare gli aspetti energetici prevalenti e questo può essere fatto costruendo degli indici opportunamente dedicati all'evidenziazione delle maggiori potenzialità di risparmio. Si può andare da indici più semplici come il consumo specifico o il tempo di ritorno dell'investimento fino a indici più complessi pensati ad hoc per il cliente, per le sue esigenze particolari. Infine il lavoro si conclude con una presentazione dei risultati ottenuti e questa presentazione deve mettere in luce le potenzialità di risparmio, la valorizzazione delle risorse già presenti e ovviamente può diventare anche stimolo per l'impostazione di politiche energetiche future. Quindi si può prevedere in altre parole sia degli interventi e quindi in termini di tempo di ritorno che siano più favorevoli e anche però interventi di tipo solo gestionale che permettono un miglioramento dell'efficienza già a costo zero. Non esistono attualmente delle linee guida standardizzate per quanto riguarda l'audito energetico, esistono però delle linee guida come la 50.001 che è un'evoluzione della normativa europea 16.001 riguardante la gestione degli aspetti energetici in un'azienda dove appunto prevedono come passaggio preliminare la realizzazione di odite energetico e nel complesso tendono appunto alla gestione in ottimizzata degli aspetti energetici basandosi su indici opportuni e sulla pianificazione di politiche energetiche che si mantengano attuali nel corso degli anni a venire.